Con il secondo weekend di gare alla Banca Marche Palace di Ancona entra nel vivo la stagione indoor. Sabato 16 gennaio nel Roncaffè Meeting si è messa in evidenza Francesca Ramini nettamente la più rapida nella finale dei 60 metri dove ha fermato il cronometro a 7,60. La velocista dello sport atletica fermo migliora così di un centesimo il primato regionale assoluto e promesse che resisteva da quasi 25 anni stabilito da Annalisa Gambelli. Ma l'impresa della Ramini non è bastata per assiclare la migliore prestazione tecnica del meeting perché la toscana Chiara Bazzoni in forza all'esercito è stata protagonista indiscussa dai 400 metri realizzando il 54 e 17 al termine di una galoppata solitaria che le vale il record personale indoor. Tra i maschi il punteggio più alto in assoluto l'ha ottenuto il poliziotto Ascolano Paolo Capponi il cui peso è volato a 17,47 e così anche lui come la Bazzoni si è giudicato la confezione Regaro Roncaffè in palio per i due migliori risultati. Sempre sui 60 metri femminili da segnalare un primato nazionale quello della Repubblica di San Marino ottenuta da Martina Petrelli dell'Olympus che in finale è terza e porta il limite a 7,92. Seconda alle spalle della Ramini l'allieva Irene Siracusa atletica 2005 con 7,91. Un altro velocista toscano si impone sui 60 metri maschili si tratta di Edoardo Baini della Terra Calabate Uisp atletica Siena. Primo in finale con 6,95 davanti al 6,98 di Julius Chianbad Civitanova Track Club dopo che si erano disputate ben 13 batterie a dimostrazione della notevole partecipazione a questo meeting. Tantissimi anche nei 400. 12 serie in tutto prevale con 49,84 Emanuele Magi della Bruni Vomano mentre il compagno di squadra Fabio Carrozza si aggiudica i 1,5 in 3,53,96. Su Pietro Pelusi della Sef Stamura Ancona in 3,55 e 54. Nel lungo vince Alessandro Altamura dell'Aden Esprivia Molfetta con 7,15 mentre Mattia Nuara della Sindustria Sport Padova non va oltre i 7,10. Nel peso debutta tra gli allievi Lorenzo Del Gatto, il campione italiano cadetti che quest'anno veste la casacca della San Gorgese Tecnolift. La palla di ferro da 5 chili atterra a 15,06 e così anche stavolta come tricolori di Esenzano, il marchigiano alla meglio su Elia Cavalancia. Oltre all'attività indoor prosegue anche la stagione della corsa campestre con la prima prova del campionato regionale assoluto di società allo stadio Martini di Corridonia. Nel cross lungo 10 chilometri vince il cheniano Zaccaio Kipsang Bivot dell'Atletica Potenza Picena che precede Maurizio Marcelletti della Asa Ascoli e il compagno di squadra Abdelaziz Fichi del Marocco. Sui 4 chilometri del cross corto si afferma il marocchino Hamid Elmoaziz, atletica Maxi Carci Vitanova davanti a Doriano Bustolotto, atletica Potenza Picena e dal connazionale Abdelacrin Kaburri, atletica Recanati. Tra le donne la migliore nel lungo dei 6 chilometri è Silvia Luna della Grottini Team, secondo posto per Simona Ruggeri dell'Asa di Ascoli, su Katia Santini, atletica Recanati. Gara corta di 4 chilometri a Loredana Santoni di Sef Stamura Ancona che ha la meglio sulle junior Roberta Zucchini, Civitanova Treclep e Valentina Talevi della Stamura. La gara junior maschile sui 6 chilometri va a Stefano Massimi dell'Asa Ascoli Piceno. Il migliore allievo sui 4 chilometri è Jacopo Silenzi, atletica Avvisi Macerata, prima allieva Alessia Beccacece della Stamura di Ancona.